Il jingle è inconfondibile, riecheggerà sulle note di jingle bass rock il canta natale 2020 per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova. Giunta al terzo anno, questa manifestazione non potrà dare vita al coro festoso che aveva attirato 5.000 persone alla pioggia e al gelo nel Natale 2019, causa coronavirus. Per questo è online, a partire proprio da queste ore, il video della versione italiana di jingle bass rock, adattata per l'occasione da Leandro Barsotti e Giorgio Pavanna, già autori di Feliz Navidad nel 2019. Ospiti di eccezione, personaggi e bambini del mondo musicale veneto, cover man per qualche istante, di Renato Zero, Giovanotti, Zucchero, Vasco e molti altri. Il coronavirus non ferma lo spirito natalizio e il desiderio di portare gioia ai bambini ricoverati. Per questo, al posto dell'emozionante corteo, si invitano i padovani a registrare un video con la loro personale versione della canzone da inviare a info-cantanatale.it o a pubblicarlo sulla propria pagina Facebook taggandolo at Cantanatale.